Un'esplosione ha squarciato la notte nel centro peligno di Corfinio, dove una banda ha messo a segno un colpo nella filiale della BCC di Pratola Peligna. Il bottino sarebbe di 26.000 euro almeno, stando alle prime stime, in centi danni ancora da calcolare e quantificare. L'episodio è venuto intorno alle tre e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno avviato le indagini scientifiche e raccolto le immagini della videosorveglianza installata nell'istituto di credito. Secondo una prima ricostruzione, gli autori del gesto avrebbero utilizzato il classico metodo Marmò, facendo saltare in aria con esplosivo il Bancomat nonché la centrale elettrica della banca, replicando quanto avvenuto recentemente a Castiglione a Casauria. Un forte boato che stava avvertito da un gruppo di giovani mentre rincasavano, gli stessi hanno alertato il numero unico di emergenza, 112. Sul posto per un sopralluogo per le verifiche del caso si è recato il direttore generale, Silvio Lancione, che ha fatto sapere che l'erogazione del servizio nella filiale proseguirà regolarmente, mentre per il Bancomat si rendono necessarie le operazioni di riparazione. Frammenti erano ancora sparsi questa partina alle 6 nella nostra diretta sul manto stradale, nell'area dell'istituto di credito, con i dipendenti che erano impegnati all'interno nella ricognizione.